Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Sarà la scuola primaria Dondino Mancini di Viale Trento il punto vaccinale nella città di Fermo, ma non da subito. È stato effettuato ieri pomeriggio il sopralluogo dal direttore dell'area Vasta 4, Licio Livini, con il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, presso l'edificio scolastico che si trova accanto allo stadio Bruno Recchioni. Innanzitutto ci tengo a dire che l'importanza del punto a Fermo è anche per la sua baricentricità rispetto anche ad altre città popolose. Penso Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a mare, Porto San Giorgio, quindi è importante anche per centri molto abitati. Noi abbiamo una scuola, la Dondino Mancini, che è stata appena spostata perché le aule non garantivano in alcuni casi le distanze richieste dalla normativa Covid. Da una necessità si apre un'opportunità perché oggi la Dondino Mancini si trova a vuota in una posizione centrale, con i parcheggi dello stadio accanto e quindi è precisa, è stata visionata ieri dall'Asur, è stata giudicata ottimale. Anzi, un domani se ci fossero più dosi di vaccino si potrebbe aprire anche il secondo piano, indipendente con le scale di emergenza. La scuola elementare è disponibile perché è stata portata in altra sede, sarà poi oggetto di lavori di riqualificazione e di adeguamento sismico dal prossimo autunno. Ora attendiamo che la Regione apra telematicamente proprio l'agenda delle prenotazioni su fermo, che immagino insomma saranno da fine marzo, i primi di aprile e quindi ecco questo è un passo molto importante. Dopo aver valutato troppo costoso l'affitto giornaliero del Fermo Forum che aveva ospitato lo screening di massa, dalla scorsa settimana è attivo il punto vaccini presso l'ex ospedale di Montegranaro e per la zona montana ad Amandola. Quindi gli ultra ottantenni dovranno andare a Montegranaro. Innanzitutto Montegranaro non è una migrazione, insomma parliamo di pochissimi chilometri, quindi a fronte a una cosa così importante credo che non sia problematica. Poi dopodiché se c'è l'ottantenne che proprio non può andare a Montegranaro, quindi non ha prenotato a Montegranaro, non appena si aprono le prenotazioni su fermo potrà farlo su fermo, insomma fine marzo, primi di aprile. Per quanto concerne invece la Dondino Mancini, quali saranno i costi che graveranno su quella sede? Ovviamente noi la mettiamo a disposizione gratuitamente all'Asur, proprio perché il pubblico deve aiutare il pubblico, insomma, tanto più in una situazione come questa.